ciao cari amici amici dell'azienda agricola antica terra del guercino di partecipanza come potete vedere alle mie spalle stiamo preparando il terreno per per la prossima stagione con dei mezzi moderni per sbaguardare l'ambiente per riuscire a utilizzare meno energia possibile anche se le attrezzature che utilizziamo sono veramente possenti come potete vedere alle mie spalle 300 cavalli con un erpigero tanti di 6 metri quindi diciamo così massima resa con il minimo sposto il motore che mi sento alle mie spalle viaggia circa 1200 1200 1200 250 giri quindi proprio minimo sposto quindi un consumo consumo limitato e quindi un emissione dell'ambiente limitato siamo attenti all'ambiente ma siamo attenti anche diciamo così al nostro portafoglio perché è naturale che dobbiamo fare fare reddito amici ci vediamo ci sentiamo nelle prossime per le prossime lavorazioni che vediamo rendiamo conto di quello che stiamo facendo ciao ciao intanto la macchina come vedete la mia spalla sta avanzando con un passo abbastanza allegro possiamo dire guardate ecco si avvicina quindi da questo punto si possono cominciare a vedere le dimensioni della macchina veramente 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 a posto ciao ciao con queste semplici immagini per il momento ma altre ne verranno iniziamo a parlare di agricoltura il nostro territorio ha una forte connotazione con l'agricoltura pertanto ci sembra giusto creare uno spazio informativo su questo importante settore sul periodico tachinocentesi.it e il suo supplemento web tv con la preziosa collaborazione dell'azienda agricola antica terra del guercino e di partecipanza partiamo dalle cose semplici per arrivare a questioni più importanti ma ora godiamoci queste immagini dopo la breve descrizione sul campo continuiamo a vedere la macchina operatrice in funzione veramente possente ma nello stesso tempo agile e permette all'operatore di effettuare manovre in spazi ristretti riducendo in questo modo il dannoso compattamento del terreno dovuto al calpestamento di manovra amici su queste belle immagini vi rimandiamo ai prossimi servizi come promesso con l'agricoltura del nostro territorio ciao 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 Grazie a tutti.